Allora io ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che hai esposto quindi andrei a far capire meglio il discorso delle frequenze, dei campi elettromagnetici e di come siamo permeati purtroppo continuamente da vari tipi di campi elettromagnetici sia naturali sia artificiali. Il discorso è abbastanza complesso quindi io direi di utilizzare le slide di supporto che sono quelle del corso diciamo. Vai Ale. Ecco. Mi sentite? Sì, sì, parte chiaro. Allora, questa è la prima slide però poi devo riprendere altre ancora. Diciamo che la visione a 360 gradi, quella che oggi potremmo definire in un modo abbastanza allargato una visione quantica globale. Praticamente è un sistema che coinvolge tutto i pnei, i psicobiotipi, l'alimentazione, i nutraceutici, l'epigenetica, la nutrigenomica, la genetica le interazioni tra il microbiota, il cervello addominale e il cervello cranico quindi di vari cervelli. C'è anche un altro cervello che sarebbe il cervello cardiaco. Dobbiamo però utilizzare anche tutta una serie di strategie, non solo di device ma anche di tecniche per esempio di gestione dello stress per il riequilibrio energetico. Prima abbiamo accennato come l'antico e il moderno devono essere fusi, devono essere riscoperti in un qualcosa di nuovo e moderno. Noi viviamo di fenomeni bioelettrici. In continuazione, molto spesso noi non ci ricordiamo del fatto che viene misurato comunemente nell'arco della nostra vita l'attività elettrica del cuore, con l'elettrocardiogramma così come del cervello, l'elettroencefalogramma. Però poi vengono misurate anche ad esempio attività elettrica della retina, elettroretinogramma così come quella muscolare, l'elettromiogramma. Insomma, è facile capire che noi viviamo di fenomeni elettrici, ma quando ci sono fenomeni elettrici ci sono anche fenomeni elettromagnetici. Quindi è chiaro che noi abbiamo dei campi elettromagnetici di debolissima intensità, bassissima intensità, che sono i biocelli, cioè campi elettromagnetici biologici. Ora, l'elettrosmog è un tipo di stressor, quindi dovremo affrontare un concetto di stress in generale, di vari tipi di stressors e i campi elettromagnetici artificiali sono come uno stressor aggiuntivo. Ecco perché in alcuni periodi a parità di persone ci sarebbero dei soggetti che magari reggono peggio lo stesso elettromagnetico in alcuni periodi della vita, quando magari sono più stressati anche per altri motivi. Magari altri lo reggono molto meglio, ma oggi vedremo che a causa di molecole che sono magnetizzabili dentro al nostro corpo, una la conosciamo tutti, è il ferro dell'ene, ma l'altra è la magnetite che ha scelto recentemente nel cervello e nel sistema nervoso. Vedremo in base a ultimissime ricerche scientifiche quanto noi siamo non solo tra virgolette che viviamo di questi fenomeni elettromagnetici, ma siamo anche magnetizzabili. E quindi è importante anche capire come onde elettromagnetiche e campi elettromagnetici possono essere dannosi, però ricordiamo che ce ne sono alcuni anche utili, perché ricordiamo per esempio la magnetoterapia, sono campi elettromagnetici utilizzati in terapia. Adesso io devo... Giorgio mi senti? È tutto a posto? Tutto bene. Allora, prima abbiamo accennato elettroretinogramma, elettromiogramma, eccetera, eccetera, ma noi possiamo misurare in modo abbastanza semplice fenomeni elettrici, per esempio sull'acute, sì, con un megaometro. Le prime incendi sono iniziate negli anni 50-60. Io sono un fautore di questo tipo di studi, ovviamente non utilizzo strumentazioni vecchie analogiche, ma queste di ultimissimo tipo digitali ad altissima velocità di reazione. Cosa significa? Che se noi pensiamo a qualcosa che ci dispiace, oppure subiamo un dolore fisico-psichico, per esempio uno stimolo a essere bucati con uno spillo, questi fenomeni bioelettrici che si misurano sull'acute variano nel giro di neanche un secondo. Ripeto, noi viviamo di fenomeni elettrici che sono anche misurabili sull'acute, per esempio lungo i famosi canali di energia, in particolare sui cosiddetti agopunti. Ora, quando noi studiamo uno stressor, che può essere termico, può essere psichico, uno stressor aumenta notevolmente la corrente che passa e diminuisce il valore resistivo. Nel giro di rapidissimo, meno di un secondo. Ora, questo che cosa significa? Che noi dobbiamo renderci conto che viviamo 24 ore su 24 di questi fenomeni elettromagnetici, ma anche gli organi, anche gli organi a loro volta hanno una loro emanazione. Abbiamo parlato di elettrocardiogramma? Sì, è noto a tutti. Di elettroencefalogramma? Noto a tutti. Ma quanti di voi sanno che invece si può misurare l'attività elettromagnetica del cervello e del cuore e che addirittura è più precisa rispetto all'elettrocardiogramma o all'elettroencefalogramma, vedremo tra un attimo delle recentissime ricerche proprio su queste strumentazioni che dimostrano in modo inequivocabile che il cuore e il cervello emettano campi elettromagnetici che vengono misurati e la cui misura addirittura serve ai fini diagnostici. Allora, vediamo di capire qualcosa di più sul discorso delle frequenze. Prima di tutto una pila che frequenza ha? Domanda che mi fanno tutti. Allora, la pila è in corrente continua, non ha una frequenza, perché una frequenza deve avere, per esempio, una sinusoide. Le frequenze bassissime sono quelle subsoniche, cioè quelle che il nostro udito non ascolta. Ma perché sono importanti queste frequenze subsoniche? Perché il nostro cervello, quando è rilassato, lavora su frequenze subsoniche che, guarda caso, corrisponde alla frequenza di Schumann, che è la frequenza di madre Terra. Vedremo poi tutte le immagini per capirci meglio qualcosa di più. Vediamo che poi si passa dalla dimensione degli hertz ai kilohertz e andiamo piano piano avanti, dove noi andiamo a incontrare i primi device, se vogliamo quelli relativamente più moderni, quindi le radio. Siamo nel grande range delle non ionizzanti. ma, come vediamo, ci sono le microwaves, quindi quelle anche di cui tanto si sta parlando, che hanno a che fare appunto con antenne cellulari, forni a microonde, vari tipi di telecamere wifi e così via. A frequenze ancora molto, molto più alte, addirittura arriviamo a quelle del Sole e a frequenze ancora molto, molto più alte, arriviamo ai famosi raggi X della radiografia e ai raggi gamma cosnici e della radioattività. Ora, che cosa abbiamo già introdotto prima? Che tutta questa zona e in particolare anche quella per le radiografie e così via, sono relativamente recenti. Perché in realtà le frequenze naturali sono molto, molto più basse, anche se nell'ordine degli Erse vedremo che quelle intorno alla frequenza di Schumann, mi sto riferendo a queste, delle frequenze di Schumann, stanno intorno agli 8, 10, 20 Erse e anche loro fluttuano. Quindi esiste un elettromagnetismo naturale e artificiale. Vedremo tra un po' che anche all'interno dell'elettromagnetismo naturale non tutto fa bene. Vedremo addirittura le tempeste solari, anomalie elettromagnetiche che avremo delle evidenze scientifiche che dimostrano che addirittura in soggetti predisposti possono peggiorare condizioni cardiache. Ma ci arriveremo tra poco. Questo per dire che noi siamo fortemente influenzati dalle onde elettromagnetiche che siano naturali o artificiali. Ma che cos'è un'onda elettromagnetica? C'è, cerco di dirlo nel modo più semplice possibile, l'onda elettromagnetica è costituita quindi da una componente elettrica e da una componente magnetica. Insieme formano questo campo elettromagnetico. Ora, i due campi tra di loro, come si vede, sono esattamente perpendicolari, ovvero il campo elettrico e il campo magnetico tra di loro sono perpendicolari. Ma c'è una direzione, perché appunto l'onda elettromagnetica ha una direzione, e qui si vede nel senso della freccia. Quindi, ritorniamo ora a capire meglio che un campo elettromagnetico sia costituito da un'onda elettromagnetica che è quindi l'insieme della parte elettrica e della parte magnetica. La corrente continua è 0 Hz, quindi si parte con, per avere le onde bisogna avere una corrente alternata. Più aumentano le frequenze e più, a parità di impostazioni dello strumento che ci fa vedere le onde, le vediamo più strette. Allora, quelli artificiali. Adesso andiamo a dare qualche dato di più. Iniziamo con quelle che sono più comuni e che sono anche le più antiche degli ultimi almeno 50 anni, ovvero a 50 Hz, quindi queste sono frequenze basse, 50 Hz. Oggi abbiamo la 230 volte in alternata, un tempo era 220 volte. Gli elettrodotti trasportano, quelli che voi vedete in campagna, appunto, una corrente ma a tensione molto più alta, per esempio 380.000 volt. Poi abbiamo tutta un'altra serie di onde elettromagnetiche che ha frequenze anche molto più alte, l'abbiamo visto prima, la radio, i cellulari. I cellulari andiamo sui gigahertz. Emissione di onde elettroniche naturali e artificiali. Però io vorrei sentirlo, questo sì. Io questo lo conosco. Aspetta. Giorgio Terziani. Lo vedi? Lo stai vedere? Allora, quindi, una delle problematiche che ha... Spegni l'audio, per favore. Una delle problematiche di cui andremo a parlare tra un po' in modo un po' più tecnico. Adesso sto cercando di... E questa cosa dell'audio io non la so fare. E anche io, bene. E per favore potete silenziare, se no rinforziamo io prima. Allora, adesso rapidamente, altrimenti sembra che ci inventiamo tutto, invece è importante far capire che quello che si dice sono evidenze scientifiche recentissime pubblicate su rivista ad altissimo auto-impact factor. Allora, qui parliamo, come vedete, di magnetoencefalografia. Non è il massimo, l'ho controllato. Non elettroencefalografia, ma di magnetoencefalografia. E ancora, addirittura, qui si parla da origini quantistica, la magnetoencefalografia multicanale. Allora, questo è solo per farvi capire che la scienza, oggi, in modo inequivocabile, dimostra che il cervello emette onde elettromagnetiche, le emette e quindi ne sarà anche influenzata dall'esterno. Ed è qui che dobbiamo collegarci poi al concetto di elettrosmog. E non solo il cervello, ma anche il cuore. Ecco, parliamo di magnetocardiografia. In basso a sinistra, deve essere basso nel cuore. Il magnetocardiografo. Ora, la magnetocardiografia non è una qualcosa di recentissimo. In realtà è studiata già da anni, ma è costosa. Ecco perché si utilizza di più l'elettrocardiografo che non il magnetocardiografo. Allora, qui vi ho parlato di campi di onde elettromagnetiche naturali. Ma non solo fanno bene, ma fanno anche male, quando sono, per esempio, in alcune condizioni particolari. Allora, qui parliamo di disturbi geomagnetici indotti dalla attività solare e purtroppo aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare. Qui parliamo di questi naturali. Perché ho voluto anticipare questo? Ma tu l'hai fatto, come tu non lo sai fare? Come fai tu? Ammaccando a destra e a sinistra. Non è così da due ore. Cioè, il microfono in basso a sinistra, altrimenti nessuno riesce a capire niente se parlate. Per favore. Allora, il concetto è questo. Il pianeta Terra ha correnti geomagnetiche. Anche il Sole emette campi elettromagnetici. Addirittura in primavera... Rossella? Scusate, potete... Rossi? Oh, ma basta! Ma dico, ma ce la fate a spegnere i microfoni? Ma almeno state vizie. Ma ce la fate a spegnere i microfoni? Ma ce la fate a spegnere i microfoni? Ce le finite, tu? Non parlare, no? Non ce la fate, no? Non ce la fate, no? Non ce la fate, no? In basso a sinistra. In basso a sinistra, c'è un microfono, lo dovete parare. Ma lo riattivano. Vai. Vai Alessandro, vai. Ok, allora. Allora, il punto delle frequenze, perché noi stiamo parlando di frequenze, abbiamo capito che di frequenze ce ne sono tantissime, a questo punto, ma noi quante frequenze riusciamo ad ascoltare, in confronto a tutte le frequenze che abbiamo visto prima, che vanno dagli hertz ai kilohertz, ai gigahertz, eccetera, noi ascoltiamo un range limitatissimo, limitatissimo. Ora, questa zona che io vi sto indicando col cursore, quindi dai 20 hertz in giù, quindi 10, 8, 7, 6, così via, sono subsoni che sono inudibili. Ma queste inudibili a noi ci interessano particolarmente perché sono quelle che emette il cervello in stato di rilassamento. Allora, lo stress, la gestione dello stress e tutto quello che ci serve per ridurre qualunque tipo di stress che sia psichico, stress ossidativo, stress a 360 gradi, è fondamentale. Allora, noi abbiamo una serie di rumori, riuscite a vederla? Arrivata? Sì, sì. Ok. Io ci sono? Mi sentite? Sì, ma c'è qualcuno che parla nella tua casa, Alessandro? Forse da lontano, in lontananza. Sì, sì. Ok. Allora, questo è il rumore. Quando noi parliamo di rumore, noi parliamo di frequenze. Il rumore bianco contiene tutta una serie di frequenze udibili, sia verso il basso, sia verso l'alto. Il rumore bianco ha frequenze che fluttuano. Il rumore bianco sarebbe rumore di fondo naturale, il fruscio delle foglie, il fruscio del vento, che si dice aiuta a rilassare. Quindi, noi sappiamo anche che ci sono rumori fortemente fastidiosi. Immaginate un parlottio, o il, che abbiamo sentito anche prima, o un martello pneumatico, ecc. Quindi è chiaro che in base alle frequenze e la loro intensità e durata, noi possiamo avere risposte biologiche molto diverse tra loro. A questo punto, però, dobbiamo andare a capire che il pianeta Terra è un magnete. Lo sappiamo tutti, perché con la bussola ci orientiamo verso il nord o verso il sud. Allora, io spero che tutti voi abbiate una bussola, perché anche se oggi vi farò vedere degli strumenti per una rilevazione dei campi elettromagnetici artificiali nella vostra casa, in modo da ottimizzare la posizione del computer, ottimizzare la posizione del letto, ottimizzare la posizione di dove lavorate, perché certe volte basta spostarsi di un metro o due per far ridurre lo stress elettromagnetico. Quindi, meglio che nulla è una bussola. Se voi usate una bussola e vi avvicinate, per esempio, a un forno a microonde, a un computer che sta funzionando, ecc. Potreste vedere che l'ago gira da un'altra parte rispetto all'orientamento normale. Vuol dire che in quel punto, vicino per esempio a un magnete, abbiamo un'alterazione del campo magnetico naturale. Questo è fondamentale, perché noi, sin dalla vita intrauterina, siamo avvolti da questo campo elettromagnetico naturale. Il pianeta Terra ha un campo elettromagnetico ampio che ha un'utilità enorme. Addirittura ci difende dalle tempeste solari. Vedremo più tardi che, per esempio, persone sensibili, parleremo della primavera, perché la primavera ha un'anomalia elettromagnetica. Ci sono persone che rifioriscono, hanno energia, si sentono bene. Altre, invece, sonnolenza, allergie, fastidi vari. Ecco, vedremo che ha a che fare con questo. La frequenza di Schumann, che è, come vediamo, è intorno agli 8 Hz, che corrisponde alle onde alfa, lo vedremo tra un po', ma è sempre 8 Hz? No. Infatti, in base a diversi fenomeni, come attività di fulmini, eccetera, può variare. Una ipotesi, ma è un'ipotesi, è che se ci sono anche variazioni e fluttuazioni rapide su queste frequenze, passare, per esempio, da circa 8 Hz a 20 o 30, in soggetti particolarmente sensibili ci potrebbe essere qualche ripercussione biologica. Questa è la frequenza di Schumann, come viene misurata. Andiamo molto rapidi. Ecco, abbiamo visto il campo elettromagnetico prima, in origine lo scudo, lo vedete? Questo è lo scudo che è simmetrico. Guardate cosa succede durante una tempesta solare. non è più affatto simmetrico. C'è il vento solare, arriva il sole, quindi sono frequenze molto alte. Guardate che il campo elettromagnetico, che dovrebbe essere teoricamente, l'abbiamo visto prima, simmetrico, non lo è più. Prende un po' una forma, sembra una specie di ave. Lo scudo elettromagnetico ci aiuta a non essere bruciati, ma potrebbe essere che alcune particelle, qui vediamo quando si distaccano, ecco, poi dovremo parlare dell'aurora boreale, però non abbiamo il tempo. Voglio solo farvi capire che noi siamo fortemente influenzati dai campi elettromagnetici, anche naturali, e che tutto ciò che ci aiuta a riequilibrare, perché da una parte bisogna capire, dall'altra sì, ma i rimedi quali sono? Quindi bisogna arrivare a capire le problematiche naturali e artificiali per poi capire come aiutarci, perché le strategie sono veramente tantissime. Ecco perché io dico è un mosaico, nulla è miracoloso, ma sono tanti tasse. Allora, una ricerca addirittura russa dal 1948 al 1997 ha rilevato attività geomagnetica, quella di cui si parlava prima, che abbiamo visto un lavoro recentissimo del 2019, che ai picchi stagionali corrisponde, lo dice questa ricerca, una maggiore incidenza di ansia, depressione, disturbo bipolare, addirittura associato, pare, anche a suicidio. L'attività elettromagnetica del Sole colpisce anche i nostri dispositivi elettronici, per cui hanno sempre paura dei famosi satelliti, perché alcune tempeste solari potrebbero alterare la funzionalità dei satelliti. Ora, parlando invece solo di quello che ci interessa a livello biologico, hanno scoperto che l'espulsione di massa coronale, sono quelle immagini che abbiamo visto prima, queste, espulsione di massa coronale, può favorire, ripeto, in alcuni soggetti predisposti, mal di testa, palpitazioni, ma infatti quello che io temevo era proprio di superare la fase di intasamento. Allora, la stessa ricerca evidenzia che potrebbe avere anche un'azione su varie ghiandole, eccetera, eccetera. Allora, noi ora andiamo molto rapido perché queste diapositive sono un corso che dura molte ore, quindi oggi è qualche pillola in più. Allora, è talmente importante questo discorso che addirittura la NASA sa quanto sia importante questo scudo elettromagnetico. Non ci andiamo ad addentrare che cosa genera questo campo elettromagnetico, ma è talmente importante che la NASA è relativamente in allarme per una tempesta solare prevista per il 2022. Il motivo sarebbe la disattivazione dei vari satelliti, andrebbe tutto in tilt. Se lo scudo elettromagnetico sia sottiglia, è facile vederlo, perché vedremo anche nel nostro emisfero le aurore boreali. Spettacolo che sicuramente è molto bello e suggestivo, ma non indica delle belle cose. Allora, attività solari e effetti climatici addirittura possono incidere sui livelli di alcuni microrganismi come la legionella, ma noi poi vedremo, tanto quando qualcuno dice ma i campi elettromagnetici le frequenze non influiscono sul biologico. Oggi evidenze scientifiche alla mano, che vi lancio qui presse da PubMed, vedrete quante ce n'è. Io vi riporto quelle più recenti e quelle più importanti. Allora, questa l'abbiamo vista. Per esempio, influenza di attività solare geomagnetica e salute della popolazione. È un lavoro, sempre che andrebbe letto, ce ne sono ancora altre, ecco, attività solare e patologie cardiovascolari. Effetti naturali e corrispondenza con patologie cardiovascolari. Qui vediamo nominata, spero si riesca a leggere, attività solare e disturbi geomagnetici. Questo per chi aveva il dubbio che noi possiamo avere poca influenza da parte di forme elettromagnetiche esterne. Ce l'abbiamo e come? La scienza ce l'ha ben nota. E qui ne vediamo tantissimo. Questo è un lavoro degli Stati Uniti, addirittura hanno studiato anche l'attività luce buia. Vado molto rapido. Allora, è sicuro che i campi elettromagnetici possano influenzare i batteri? Ma quali sono i batteri, virus e funghi che noi abbiamo dentro? Il nostro microbiota. Il GAT microbiota. Noi oggi parliamo di sistema immunitario, serotonina e microbiota intestinale. Sappiamo che il sistema immunitario in altissima percentuale è dato dalla salute del microbiota e del nostro intestino. Stiamo parlando tanto di sistema immunitario, ma dobbiamo sapere che la salute intestinale è correlata contemporaneamente a quella del cervello tramite l'asse cervello GAT. Allora, il GAT parte dalla bocca e termina nello sfinteranale, per cui l'intestino, il bowel, fa parte del GAT. Ora, quello che è molto importante capire è che lo stress, stress, patologie e così via, vanno ad alterare l'integrità strutturale e funzionale della barriera intestinale, ma cosa importante, visto che parliamo di onde elettromagnetiche, vedremo dei lavori, che ve le lancio tra poco, in cui i campi elettromagnetici possono avere un'influenza su microorganismi, fra cui anche batteri. Ora, è chiaro che se noi abbiamo a che fare con una disbiosi, oltre all'alimentazione, sostanze naturali, ci abbiamo a che fare anche correlato allo stato infiammatorio, perché vediamo, GAT-Brain axis, intestino, e quando c'è disbiosi, abbiamo spesso una infiammazione cronica, con alti livelli di stress ossidativo, cioè è tutto collegato. Ecco perché è molto importante capire i tasselli, il grande mosaico costituito da tanti tasselli. Stiamo parlando quindi di GAT-Brain axis, GAT microbiota e campi elettromagnetici. Il microbiota, come vedete, e l'asse con il cervello vanno a regolare il metabolismo, quindi è fondamentale. E' chiaro che tutto quello, così come l'obesità e così via, tutto quello che ci serve per ottimizzare lo dobbiamo fare. Oggi stiamo parlando di batteri, di virus, campi elettromagnetici. Bene, allora, che cosa possiamo sapere? Che, se abbiamo visto che lo stress è direttamente collegato ad un peggioramento della disbiose, ad un peggioramento dell'asse GAT-Brain axis, dobbiamo capire che dobbiamo avere una serie di strategie che contemporaneamente lavorano su più livelli. Non si sente più. Ale, Alessandro? Alessandro? Aspettate, che può darsi che abbia un problema. Ale? Alessandro, che è successo? Sei cascato? Sei vivo? Che è successo? Hai preso un campo magnetico alto. Che è successo? Deve cambiare frequenza. Che è successo? E tu la nuova relatrice? Questo è il dono della tecnologia e i problemi, quindi abbiamo... Ci siamo? Dai, riprova perché era andato via tutto. Da che punto è andato via? Questa l'avete vista? Quella del microbiota, vai, quella dopo microbiota. Ma devi ricondividere tutto, eh? Sì, la vedete? No, devi ricondividerla, devi share, devi fare un'altra volta share. Un attimo che adesso ricondivido. Fatto? Alessandro, ci sei? Ok. Ecco, ci siete? Sì, vai. Ok. Da qua, bravo. Sino qui c'eravamo arrivati. Va bene, vai. Queste sono le meraviglie della tecnologia. Arrivano e se ne vanno. Ok. Allora, siamo arrivati al punto di capire che tutto quello che ha a che fare con batteri, virus, microrganismi e quindi microbiota intestinale e così via, può essere correlato con l'importanza metabolica e di campi elettromagnetici. Perché è questo ora l'argomento di oggi, anche se ce ne sarebbe da parlare veramente per giorni. Ora, Luc Montagnier parla di medicina elettromagnetica. Perché? Perché ha dimostrato ripetutamente che virus e batteri sono sensibili e reagistono a campi elettromagnetici. Come vediamo in questo lavoro, che è un lavoro abbastanza recente, non è di Luc Montagnier, ma sono di altri autori, vediamo proprio che i campi elettromagnetici ad alta frequenza hanno un effetto sull'attività dei batteri riguardo all'utilizzo degli antibiotici. Quindi, come vedremo poi, anche oggi non ne abbiamo il tempo, ma in pratica peggiora l'antibiotico resistenza. Ve la faccio proprio brava, breve. Ecco, praticamente quello che si arriva ad avere è che i campi elettromagnetici, quindi parliamo di quelli artificiali ad alta frequenza, non naturali, peggiorano l'antibiotico resistenza, di cui oggi tanto si parla. Sarà un argomento recentissimo, perché ovviamente se lo chiedete la maggior parte dei medici neanche lo sapranno. Eppure ci sono diversi lavori che stanno lavorando in questo senso. Parlando ancora di effetti dei campi elettromagnetici, addirittura questo è un lavoro in cui hanno igienizzato l'acqua della produzione di quelli che sono i polli. Quindi, praticamente hanno usato campi elettromagnetici per igienizzare l'acqua all'O a bassa frequenza. Altri lavori, invece, dimostrano che le specifiche frequenze, anziché aumentare la capacità batterica, ne inibiscono la crescita. A questo punto uno cercherebbe di capire, ma allora i campi elettromagnetici peggiorano? Allora, dipende tutto dalla frequenza e dal tipo di campi che sono utilizzati. Per quello io devo ricordare che esiste la magnetoterapia. Ma, cosa fondamentale, anche la magnetoterapia bisogna utilizzare frequenze specifiche, intensità corrette e tempi di esposizione corretti. Altrimenti vedremo, poi vi faccio vedere dall'ultimo libro che è uscito proprio ieri, che ho appena scritto, dove parlo di tutti questi argomenti, riporto un'immagine in cui faccio vedere che le cellule staminali possono essere attivate in bene o in male, addirittura a genesi del cancro, in base ai tempi e alla durata dei campi elettromagnetici. È un lavoro tutto riportato. Allora, quindi vediamo che addirittura qua vi hanno utilizzato per ridurre un biofilm. Quindi non è che i campi elettromagnetici sono solo negativi, perché noi, quando poi vi farò vedere la smart card, la vitality card, quella emette campi elettromagnetici, lei emette, ma induce un riequilibrio. Quindi noi dobbiamo capire, prima di tutto che siamo fatti, viviamo di fenomeni bioelettrici e di campi elettromagnetici a bassissima intensità. Sono campi estremamente deboli. Questi campi estremamente deboli è ovvio che possono essere influenzati, certe volte in positivo a seconda del tipo di frequenze, e certe volte purtroppo in negativo da altri tipi di campi elettromagnetici e poi si tratta di vedere in quanto tempo vengono fuori questi effetti nefasti, perché ci sono anche effetti relativamente a breve, perché sono stati fatti esperimenti come armi militari che hanno disorientamento, mal di testa, stordimento, e quelle sono abbastanza rapidi. Poi affronteremo tra un po', però adesso due parole su questo lavoro, perché io sono fissato sulla 5-idroxitriptamina, ovvero la serotonina, dove i campi elettromagnetici, sempre specifici perché dobbiamo sempre dire qual è la frequenza, qual è l'intensità, qual è il tempo d'esposizione, eccetera, hanno indotto analgesia nei ratti utilizzando i recettori 5-HT1 e 5-HT2. Lavoro sempre di maggio 2019, altri lavori che vi porterò a far vedere tra poco saranno del 2020, perché è una scienza all'avanguardia e se uno pensa di utilizzare lavori di 10-20 anni fa, resta troppo indietro. Allora, ecco, un aiuto qual è? Allora, dei lavori che abbiamo fatto sperimentali con la smart card metallica rimase impresso, io sono uno scettico, sono un ricercatore, ma sono uno scettico possibilista, io non ci credevo. Facciamo delle prove con vari prof a un... in un momento di pausa, era una cena in uno dei tanti congressi che sino a poco tempo fa si potevano fare dal vivo e attraverso delle tecniche di forza, in pratica aumentava o diminuiva la forza a seconda se passavamo o il cellulare, che faceva diminuire la forza anche rapidamente, oppure passavamo la card. in particolare questo dettaglio lo feci io stesso, da scettico, su diverse persone oggettivamente aumentavano la forza e l'equilibrio quando veniva passata la smart card. è chiaro che io mi incurio sì, mi incurio sì, ma come fa? Quindi chiaramente puoi portare in laboratorio la smart card e l'ho sottoposta a qualunque tipo di rilevazione e ho fatto un video che ho mandato anche nell'ultimo corso ECM dimostrando che emette a sua volta dei campi ultradeboli. Allora, è quello che diciamo ci aiuta per ribilanciarci. che cosa ho visto? Che se insieme al passaggio della smart card inseriamo delle tecniche di respirazione, di rilassamento, di meditazione, i risultati sono molto più rapidi e potenti. Ancora una volta è un sistema semplice da applicare per l'occidentale che ci può dare risultati molto rapidi. Allora, ad S-Drive, come il cuore ha il suo campo elettromagnetico, il cervello, EC e vari organi, i capelli hanno loro campi elettromagnetici e sono influenzati da tutta una serie di eventi a livello epigenetico e nutrigenomico, diciamo, in generale e cerco di spiegare nel modo più semplice possibile. E questi capelli evitano questi segnali che sono stati registrati sotto forma di segnali elettromagnetici che vengono, è il bulbo in particolare, il bulbo vivo, tant'è che ho fatto delle prove, lasciato, io sono scettico, quindi ho lasciato dei capelli prelevati 3-4 giorni prima e non ho avuto praticamente risultati. Quindi deve essere vivo. Quindi va prelevato e inserito sulla doppia spirale che sull'S-Drive è il recettore. Quindi chi è che emette? è il bulbo che emette, che cosa? Una serie di informazioni che si sono registrate in base al nostro vissuto, a quello che abbiamo mangiato, allo stress elettromagnetico e tanto altro. Tant'è che addirittura è possibile dare dei consigli insieme a tante altre metodologie diagnostiche perché questo integra tutta una serie di sistemi di consiglio dal punto di vista nutraceutici, alimentazione, ma anche dello stato elettromagnetico. Io sempre da scettico, io sto attentissimo. Per esempio, oggi ho questo PC, tra i vari notebook mi sono scelto quello che emette un campo elettromagnetico più basso. A me ne sto attento di non mettere la mano dove ho l'hard disk, cioè praticamente dove ho la tastiera. Vi farò vedere tra un po' delle foto dove ho fatto misurazioni con la differenza tra un'emissione di un notebook e invece di una tastiera di un PC fisso. Ci sarà una differenza abissale. Molto meno ce l'ha la tastiera del PC fisso. Per adesso torniamo un attimo a questo. Quindi noi andiamo a prelevare le informazioni che ha registrato il capello vivo, informazioni a 360 gradi. Tra queste informazioni ci sono anche quanto stress elettromagnetico quel soggetto ha vissuto. Io sto avviando uno studio con l'S Drive, quindi vedremo in futuro, dove persone che utilizzano tablet, cellulare e notebook per tante ore al giorno, quindi è uno stress multiplo. Questo è il punto, multiplo e contemporaneo. Vedremo prima e dopo, nel senso che dopo due o tre giorni andremo a rifare un altro prelievo e vedremo senza aver toccato nulla e con passaggi della nuova smart card che cosa è successo. Vedremo tra un po'. Per adesso noi sappiamo solo che con l'utilizzo della smart card abbiamo in modo empirico, empirico nel senso oggettivo, un incremento della forza in acuto e l'aumento dell'equilibrio. come vedete la spirale è molto simile. Questa spirale praticamente ha una sua azione ed emette il campo elettromagnetico in questo senso. quindi passa attraverso questo microchip e il senso di propagazione dell'onda è in avanti. A questo punto abbiamo capito che la Terra, il pianeta Terra, emette frequenze molto basse, quindi dagli 8 Hz, 10, 12, 15, 20, 25, giù di lì. Quindi è impossibile non andare a paragonare le onde del cervello. Quindi intorno 1-4 Hz siamo oltre il rilassamento normale attivo. Nelle onde teta abbiamo un sonno leggero. Il vero rilassamento attivo è lo stadio alfa. Ma è una chiamata? No, sì, sto sentendo. Potete chiudere i microfoni per favore? Se no non capiamo niente. Allora... Questa card è mia ipotesi che aiuti anche a rilassare la mia ipotesi come l'ho potuta suffragare utilizzando il biofeedback io sotto ho un intero laboratorio in cui ho investito decine di migliaia di euro con tutte strumentazioni rapide perché noi siamo molto rapidi a cambiare questi nostri fenomeni elettrici e quindi col biofeedback ma anche con il saturimetro oggi si parla tanto del saturimetro quindi possiamo vedere la variazione cardiaca costa poco eppure è tanto importante usarlo ecco si vede con biofeedback saturimetro misurazione della pressione arteriosa che il soggetto si è rilassato ma se il soggetto si è rilassato vale la sua parola? sì e no perché potrebbe essersi convinto potrebbe essere soggezione invece noi dobbiamo avere delle strumentazioni che ci permettono di capire che il soggetto è realmente rilassato ovvero aumentato le onde alfa lo strumento lo strumento migliore qual è? l'elettroencefalografo ma anche con l'elettrocardiografo posso vedere un rallentamento delle varie onde se invece sono in stato di veglia vedete le frequenze aumentano di numero quando sono fortemente concentrato aumentano ancora di frequenza fino ad arrivare a 30, 40 pare addirittura anche a 50 ora però devo fare questo parallelismo se ho delle fluttuazioni della frequenza di Schumann per la teoria ipotesi del tuning cioè della sintonia madre Terra mi manda delle frequenze che mi mandano in tuning a 20 Hz per esempio non sono più in alfa mentre se mi dà 8 Hz madre Terra mi manda in alfa l'alfa è lo stato pre-REM è l'unico stadio che rilassa sul seno il REM non è affatto rilassante sognare è indispensabile ma non è affatto rilassante allora Giorgio vi ha anticipato sull'acqua io sono un patito dell'acqua organizzata lo studio dei cluster domini di coerenza noi siamo costituiti come numero di molecole dal 90 al 99% di acqua come massa in peso come peso in percentuale intorno al 70% in peso ora questa acqua com'è? semplicemente H2O? no è acqua strutturata pure queste sono ricerche relativamente recenti per capire faccio un esempio la medusa è gelatinosa come fa a essere solida? perché ci sono questo è un passaggio fondamentale prima vi ho fatto capire che siamo viviamo per i campi elettromagnetici adesso vi aggiungo un altro concetto i campi elettromagnetici come già spiegò bene il compianto con il solipilio del giudice di cui io sono un grande estimatore la medusa non sarebbe gelatinosa sarebbe solo acqua se non ci fossero i campi elettromagnetici ma anche noi anche noi esseri umani saremo una pozza d'acqua se non ci fossero i campi elettromagnetici con l'acqua strutturata non tutta l'acqua fisica all'interno del nostro corpo è in domini di coerenza c'è chi parla del 60 che del 40 ancora tutto secondo me abbastanza da vedere sulle percentuali specifiche ma sicuramente i domini di coerenza sono correlati ai campi bio elettromagnetici quindi se io sono solido per i campi elettromagnetici biologici campi elettromagnetici molto intensi che non ha che hanno intensità molto molto più alta di quelle biologiche cosa mi possono fare ora Luc Montagnier è lui che ha studiato come un DNA batterico manda dei segnali è il famoso esperimento che su una prima provetta diciamo c'è un DNA batterico nella seconda ci sono solo le basi arriva il segnale dalla provetta 1 alla provetta 2 all'interno di queste provette c'è la frequenza di Schumann intorno ai 7 8 Hz altrimenti l'esperimento non funziona e per questa forza che ancora secondo me bisogna approfondire in gran parte si ricostituisce il DNA io dico provetta 1 provetta 2 per spiegarci della provetta numero 1 si ricostituisce i mattoni si costruiscono un'intera costruzione se lo vediamo come le singole basi un vagone si è ricreato un treno ora è chiaro che l'informazione perché da qua poi si passa all'aspetto più quantistico l'informazione è correlato all'aspetto elettromagnetico quindi sono elettromagnetici i segnali dei DNA batterici sono c'è un campo elettromagnetico intorno ai 7 8 Hz tutto intorno a queste provette questi segnali mandano delle informazioni che fanno sì che nella provetta numero 2 si ricostruisce si costruisce si assemblano questi singoli vagoni per formare questo nuovo treno qui sono bibliografie sui domini di coerenza cluster perché molti pensano che sia medicina alternativa no questa è medicina integrata e i lavori sono veramente tanti questo è il compianto il professor giudice che ha spiegato molto molto bene io vado molto avanti chi è che ha scoperto che siamo composti sino al 99% di acqua acqua che poi in vivo è prevalentemente in alta percentuale strutturata in domini in coerenza è il dottor general Pollack da cui qui vediamo le varie pubblicazioni allora dove abbiamo strutture magnetizzabili? il cervello questa è una cosa che ha lasciato a bocca aperta quando fece il primo corso di medicina quantica i CM due anni fa e fu una novità assoluta rimasero intanto a bocca aperta perché noi abbiamo un materiale magnetizzabile che è la magnetite nel cervello e nel sistema nervoso è fondamentale questo perché oltre al ferro dell'ene noi abbiamo una magnetite che apre scenari notevoli perché per certi versi ci fa somigliare vagamente agli animali come immaginate gli uccelli migratori le grandi mandre i cetacei quindi siamo animali anche noi che vanno a percepire queste correnti geomagnetiche ci sono correnti geomagnetiche pare proprio di sì ma la frequenza di Schumann che abbiamo visto prima quindi è una frequenza che abbiamo visto da 8 Hz e poi può fluttuare un po' di più può andarci a influenzare quanto? Stiamo cominciando a capire che la scienza ha dimostrato che poi probabilmente può influenzarci anche perché abbiamo magnetite nel cervello il primo lavoro è stato del 92 questo scienziato all'inizio fu quasi deriso poi un altro lavoro molto importante nel 2001 e infine nel 2010 quindi insieme al ferro ionizzato negli eritrosciti noi siamo animali magnetizzabili e quindi influenzati dai CERN naturali artificiali e ce l'ha spiegato il grande scienziato che è stato un po' misconosciuto Kirsving sto cercando di andare avanti ma non mi fa andare avanti un attimo vai vai c'è un attimo di latenza allora la magnetite nel cervello quindi in pratica ci nasciamo ci siamo su questo ce l'abbiamo ma che cosa è stato scoperto recentemente che purtroppo stiamo parlando di inquinamento industriale questo lo sanno in pochi anche la magnetite da alcune diciamo fabbriche suppongo non sappiamo esattamente quali tipi di fabbriche ma questi ricercatori utilizzando il microscopio elettronico hanno dimostrato che la magnetite nel cervello è aumentata perché secondo questi ricercatori le nanoparticelle dell'inquinamento industriale ha fatto aumentare la magnetite questo è fondamentale è vero la ricerca è del 2016 ma guardate che in numerosissimi corsi ECM ho parlato con tanti ricercatori nessuno lo sapeva non sapevano neanche che quello scienziato ha scoperto che abbiamo la magnetite nel cervello di natura ma ora altri ricercatori hanno scoperto che l'inquinamento industriale sotto forma di nanoparticelle ci fa aumentare la magnetite ma se noi siamo soggetti magnetizzabili in questo contesto storico a causa di questo inclinamento industriale significa che siamo ancora più magnetizzabili di prima allora cerchiamo di riassumere viviamo in un mondo in cui lo stress elettromagnetico multifrequenziale è a massimi storici ma abbiamo anche un aumento della magnetite sotto forma di nanoparticelle anche da inquinamento industriale gli ricercatori hanno dimostrato che possono peggiorare o addirittura aumentare la produzione dei ROS le specie reattive dell'ossigeno con l'ossigeno sia nel cervello sia nel sistema nervoso che sono quelle strutture in cui si trova la magnetite sia naturale sia per aggiunta il problema è che l'aumento dei ROS sono correlate anche a patologie degenerative fra cui l'Alzheimer qui troviate la bibliografia come vedete le citazioni purtroppo io sto notando che recentemente ci sono tantissimi video di improvvisati che parlano su YouTube che non citano neanche una fonte scientifica che danno i loro pareri allora un lavoro serio si basa su lavori scientifici io sto mettendo insieme i tasselli come ricercatori in prima persona e utilizzo tutti i tasselli che troviamo su riviste ad alto impact factor ecco vediamo un altro questo è un altro lavoro questo era del 2016 questo è un altro lavoro pubblicato sull'International Journal of Nanomedicine e vedete ancora nanoparticelle di magnetite possono essere sia naturali e anche tipiche di uno stato di salute ma possono essere anche in cancro disordini neurodegenerativi aterosclerosi e questa è la bibliografia questo è che cosa significa che ci ritroviamo anche a causa di questa magnetite in più ancora più attaccate dei ROS quindi potremmo avere si ipotizza anche uno stress ossidativo maggiore io ora andrò molto rapidamente perché vi rimando al libro vincere la stanchezza lo stress e la fatica in cui affronto in questo libro dell'edizione LSWR tutti questi argomenti la primavera ricordiamoci che alla scuola di alta formazione ah giusto sì alla scuola di alta formazione troverete questa parte di diapositive più l'altra metà allora cosa fondamentale la primavera non è solo non ha solo a che fare con la climatologia perché ci sono le alterazioni elettromagnetiche le abbiamo viste prima quelle del sole perché aumenta può aumentare l'attività solare quindi a primavera si può stare o molto meglio o molto peggio tant'è che ci sono quelli che hanno voglia di fare buon umore sessualità risvegliata altri invece cacchicardia cardioaccelerazione mal di testa dolori neuromatici stanchezza irratibilità insonnia ecc ecc quindi questa notevole differenza non stiamo parlando di allergie da primavera da pollini eh io sto parlando di queste sensazioni quelle più diciamo psicofisiologiche più la parte anche della sonnolenza perché a primavera certi si sentono caricati a molla altri dicono ho sonno a parità di condizioni a parità di emissione elettromagnetica perché dipende la condizione energetica psicofisiologica neuroendocrina e bioelettromagnetica di quello specifico soggetto ecco perché si entra nel discorso della variabilità soggettiva questo è quello che abbiamo già detto quindi la bioclimatologia è una scienza noi a Milano in Italia abbiamo il centro ricerche in bioclimatologia medica dell'università di Milano quindi sappiamo bene che prima di un temporale alcuni soggetti hanno tutta questa serie di manifestazioni tanti altri no ma altri sì quindi io ipotizzo che oltre a semplice cambio di temperature ci sia un cambiamento anche elettromagnetico ma è un'ipotesi abbastanza suffragata perché in realtà cosa succede prima di un temporale aumentano gli ioni di grossi dimensioni sarebbe il pulviscolo diminuiscono gli ioni negativi aumentano positivi mentre durante il temporale per esempio con i fulmini aumentano gli ioni negativi sono quelli che ci fanno sentire meglio i fulmini hanno scarica ad altissima tensione si parla di 10 alla 9 ma che e parliamo anche di quantità di corrente altissime quindi noi abbiamo un discorso di gli ioni negativi che sono utili e quindi che cosa fare abbiamo fatto delle prove proprio ora a primavera su persone che sarebbero sensibili a tutti a questi disturbi primaverili stanchezza sonnolenza cardio accelerazione nervosismo e abbiamo fatto dei passaggi con la smart card associati a respirazioni calmanti sarà strano sarà però ha funzionato diciamo che noi abbiamo dei mezzi che prima ancora di credere sulla parola bisogna provarli io sono fatto così credo al risultato adesso io vorrei ritornare un attimo a ricordarci a ricordarci come il nostro cervello appunto vive di frequenze ed emette frequenze ma anche dei materiali intorno a noi come per esempio una polvere può prendere una forma se gli mandiamo delle frequenze sonore è il caso della cinematica perché è molto affascinante perché abbiamo visto che in base al tipo delle vibrazioni sonore udibili ma io aggiungo ma io aggiungo oltre alle vibrazioni mamma mia ragazzi ma chi è ma c'è un comando per silenziare tutti tranne me è possibile ok allora io vado eh Giorgio vado avanti vai allora Hans Jenny che cosa dimostrò e parliamo di di tanti anni fa guardate questo trasduttore che è un dinosauro dimostrò che le frequenze in base a come cambiavano facevano disporre la polvere che può essere polvere di licopodio polvere di riso prendendo figure molto diverse la cosa particolare è che alcune di queste immagini che qui non ne ho riportate molte ma ne ho tantissime ricordano addirittura i cerchi nel grano strano però di questo bisogna però se noi guardiamo non è tanto strano perché alcune immagini ricordano le anche le spirali ora perché perché il mondo vive di frequenze vibrazioni ora questo termine sembra che ci infiliamo nella medicina non ufficiale ma le frequenze sono vibrazioni se voi vi mettete davanti a un altoparlante che emette una frequenza di dcs vi vibrano i visceri tant'è che io mi occupo anche di musicoterapia suonoterapia vibrazionale e subsonico vibrazionale dove proprio andiamo a creare un bagno elettromagnetico e riequilibrante perché perché noi andiamo a far vibrare le cellule e la parte di acqua quindi questa è una polvere e questa polvere in base alle frequenze passa per esempio da questa immagine a questa cambiando frequenza cambiare frequenza vuol dire per esempio se vado su una frequenza più alta sono più fitte se invece abbasso la frequenza vedo a questo strumento le onde più larghe queste sono le sinusoidi ecco ora qui era solo decenni su come vibrazioni per esempio di campane tibetane di tante altre cose aiutano a star meglio ora a noi ci interessa ci interessa vedere come qui addirittura suoni tibetani ecc ma insomma ora andiamo a vedere cosa io vado a usare utilizzo gli oscilloscopi quindi io qui vedo le varie forme d'onda questo è un oscilloscopio digitale di ultimissima generazione io qua ho misurato con questo la smartcard ho un video che Giorgio ha e che ho mostrato all'ultimo corso dove ho messo gli elettrodi in entrata e in uscita dimostrando che prima e dopo prima in entrata non c'era un'emanazione in uscita la smartcard c'era un'emanazione ecco queste sono questa è una moneta da un euro per farvi capire questi sono trasduttori da quasi mezzo metro enormi per fare studi di terapie bio-vibrazionali ecco questa è una parte del laboratorio allora ora a questo punto noi abbiamo la sederide per catturare prelevare i segnali dal capello vivo che lui questo capello anzi sono tre quattro hanno registrato tutta una serie di segnali che provengono dal nostro corpo e quindi sono segnali bio-elettromagnetici ma questi segnali da dove vengono? vengono dal nostro corpo che dicono come abbiamo mangiato se bene o male se ci siamo stressati se abbiamo stress emotivo se abbiamo sostanze tossiche vuol dire in pratica che tutto quello che noi mangiamo viviamo respiriamo beviamo le persone che ci circondano lo stile di vita quindi epigenetica e nutrigenomica le troviamo riassunte tutti questi segnali li troviamo come riassunti in questi capelli vivi che questi segnali di natura elettromagnetica vengono prelevati dalla spirale dell'S drive poi lei converte questi segnali li invia direttamente in Germania ci sono dei convertitori prima digitali analogici poi analogici digitali vengono riconvertiti analizzati e viene fatto il piano su misura alimentare degli nutraceutici tutta una serie di consigli ma anche viene vista la situazione dello stress elettromagnetico particolare quindi dobbiamo sapere sapere grosso modo in che situazione siamo può essere utile ora vi do qualche altro consiglio su come per esempio andare a posizionare la nostra postazione visto che oggi viviamo di smart working che vuol dire pc cellulare wifi vicino vorremmo vedere a quale distanza può essere meno dannoso vediamo un po' come fare qui ci sono i soliti consigli che avrete letto dappertutto il il cellulare deve stare almeno due tre metri di distanza non bisognerebbe usare radio sveglia in camera in camera in teoria non bisognerebbe avere nulla di elettrico l'asciugacapelli l'asciugacapelli emette un campo elettromagnetico notevole poi tutto quello che sono alimentatori in funzione per esempio il pc fisso la tastiera la tastiera ora questi sono gli strumenti la tastiera arriva 5 volt in corrente continua con un campo elettromagnetico bassissimo quindi non è neanche corrente alternata vuol dire che una tastiera di un pc fisso sulla quale mettiamo le dita ha un campo elettromagnetico che non è dannoso se mettiamo le dita invece su un notebook e il notebook ha grosso modo l'hard disk che è vicino alla tastiera noi andiamo a misurare un campo elettromagnetico alto ve lo faccio vedere al volo e poi ci ritorniamo poi ritorniamo alle altre misurazioni allora questo strumento ho utilizzato questo perché è un pezzo di storia è precisissimo non misura gli impulsi dei wifi bisogna usarne un altro che ora vi faccio vedere ma fa vedere vedete l'ago dov'è? a fondo corsa lo vedete? a fondo corsa ed è posizionato sulla tastiera di un notebook lo stesso strumento vicino alla tastiera collegata guardate è quasi a zero vedete? quasi a zero sul notebook invece praticamente al massimo ok? ora dato che io ho sempre investito parte del mio denaro in strumenti e ne ho tantissimi vi faccio vedere questo che è il Trifield sia perché è estremamente noto in tutto il mondo questo è quello ovviamente originale made in USA sia perché è abbastanza affidabile quello che a noi ora potrebbe interessare però era misurare il letto devo andare a rivoluzionare per forza la camera dal letto per dimezzare l'intensità del campo elettromagnetico no questo lo vedete l'ago è a metà con il letto adagiato aderente alla parete il letto spostato solo da 30 30 cm della parete già si è ridotto se io lo sposto di mezzo metro 60 cm già si riduce un altro pochino la domanda è ma questo campo elettromagnetico da dove viene semplice lungo la parete ci sono i cavi della corrente alternata a 230 volt 50 hertz e come io accendo l'aba giur che nel mio caso starà più o meno qua passa più corrente e l'ago anziché in questa posizione finirebbe ancora più avanti e perché perché appena io accendo l'aba giur accendo una lampadina passa più corrente quando passa corrente passando più corrente aumenta il campo elettromagnetico cerco di dirlo proprio nel modo più semplice ma bisogna essere pratici e andiamo a un a un punto dolens che sono i modem wifi di ultima generazione c'è da dire una cosa fondamentale noi abbiamo parlato di frequenze campi elettromagnetici ma non abbiamo detto che queste frequenze e alle loro intensità possono essere sia costanti sia a picchi mi spiego meglio facciamo finta che ci sia un suono una sinusoide tanto per capirci questa sinusoide potrebbe avere un suono di sottofondo e poi ogni tanto dare dei picchi assordanti cerco sempre di fare esempi semplici i wifi di nuova generazione hanno dei segnali costanti e dei picchi ecco i picchi questi picchi se ci stiamo vicini a questi modem wifi arrivano a dei valori abbastanza alti tant'è che vedete qui si è accesa la luce rossa questo vedete elettrosmog meter che cosa ha questo strumento a differenza di quest'altro che misura i picchi questo significa che se non lo so e sto a diversi metri di e non sto a diversi metri di distanza dal modem io andrò a caricarmi di uno stress elettromagnetico senza saperlo quello che ho notato con esperienze con la smart card empiriche che tanto più un soggetto è stressato con elettrosmog abbiamo fatto l'esperienza di stressarlo apposta cioè di mettere un cellulare attaccato per esempio nella zona cardiaca col cellulare che vicino alla zona cardiaca perdeva forza a parità di di tecnica di prova o di equilibrio kinesiologiche e non togliendo il cellulare e togliendo e passando quindi togliendo il campo elettromagnetico del cellulare e passando la smart card questi soggetti a cui abbiamo fatto queste prove empiriche riprendevano forza allo stesso test sembra strano sembra quasi da non crederci ma bisogna io per anni non ci ho creduto ho cominciato a fare queste esperienze e devo dire che tanto più il soggetto è stressato tanto più si ottimizza quindi la mia teoria è che vada a riequilibrare questi campi ultra deboli biologici questi li abbiamo visti quindi io adesso vi farei vedere vediamo il tempo che ho a disposizione degli ultimi lavori ho un minuto 10 minuti ce l'hai le persone ci seguono ok vorrei far vedere stress ossidativo e campi elettromagnetici i lavori che sono appena usciti non più di 10 minuti anche se no poi le lancio e basta tanto poi ne parleremo alla scuola perché sono argomenti importantissimi e di una attualità estrema per non dire che uno se ne inventa al solito come mia abitudine riporto i lavori originali allora qui per quanto riguarda stress disposizione da radiofrequenza stress ossidativo cortecosterone i ratti hanno diciamo questa condizione ed è un tipo di lavoro vado rapidissimo solo le lancio poi un altro lavoro questo era del 2020 questo lavoro è uscito nel 2020 questo appunto ancora è recente fertilità maschile e radiazioni e qui parliamo dei campi EMF che sarebbero in italiano ECHEM E-N-F in inglese RF sono quindi da radiofrequenza è dimostrata una riduzione della fertilità maschile è un effetto qua si legge una riduzione della qualità dello sperma maschile e ancora qui parliamo di effetto delle radiazioni dei telefoni mobile quindi cellulari stress ossidativo risposta infiammatoria e qui abbiamo anche addirittura un altro sintomo allora la particolarità ecco qui lo vediamo si parla proprio di stress i glucocorticoidi correlato quindi anche alla risposta di ammatoria e tutto questo a causa delle radiazioni dei cellulari quindi quando mi dicono che non ci sono lavori recenti non lo so ancora questo è un lavoro del 2019 aprile del 2019 quello prima prima di questo qual è che l'ho perso cos'è che avevi messo tanto poi te li mando tutti questo qui era del 2020 questa è l'ultima ricerca che ho fatta apposta per voi cioè nel senso che mi sono preparato uno stress ossidativo correlato a campi elettromagnetici perché di questo purtroppo non se ne parla si parla tanto di stress ossidativo di stress psichico di stanchezza verissimo ma che i campi elettromagnetici soprattutto quelli artificiali vadano a peggiorare lo stress ossidativo se ne parla poco ancora ecco vedete stress ossidativo campi elettromagnetici addirittura c'è un peggioramento della capacità di apprendimento della memoria e addirittura peggioramento dell'ansia e ancora ancora un altro questo è del 2017 campi estremamente bassi a livello di frequenze elettromagnetiche effetti sul comportamento sull'ansia peggiora l'ansia se ho ancora un minuto vi lancio qualche altro lavoro allora devo dire due parole sui elettrosensibili perché continuano a dire che non esistono quando invece io ne conosco moltissimi Alessandro come si chiama il tuo ultimo libro subito prima di chiudere lo faccio vedere è vincere la stanchezza lo stress e la fatica troviamo tutti questi argomenti oltre alle tecniche nutraceutici troviamo di tutto un po' e troviamo tantissime ci sono centinaia e centinaia di notte bibliografiche aggiornate al 2020 perché è appena uscito ho continuato l'aggiornamento fino al giorno prima di andare in istampa la cassa editrice è anche assorbito questa stessa la LCB tanto per di quanto è grossa ecco questo lavoro lo vedete? si riesce a vedere? sì questo dell'LCB si vede? sì perfetto allora io direi che l'abstract in sintesi fa capire che i campi elettromagnetici su soggetti autodichiarati elettrosensibili questo è fondamentale hanno dimostrato perché hanno analizzato hanno fatto una serie di analisi del sangue e hanno visto che c'era per esempio una riduzione del glutatione ecco vi mando l'abstract riusciamo a vederlo io di questi di questi i partecipanti erano ben 57 neanche 10 quindi qui si parla di campi elettromagnetici e elettrosensibili allora ne lancio un altro rapidissimo sul peggioramento della di come i campi elettromagnetici artificiali purtroppo possano peggiorare se me lo fa partire possono peggiorare l'antibiotico resistenza lo stiamo vedendo lo riuscite a vedere perfetto c'è sempre un periodo di latenza quando lancio eccolo qua questo pure è un lavoro molto recente buona rivista ad alto impact factor qui vedete i vari ricercatori e qui come se parla proprio di wifi cellulari ecc quindi praticamente lo stafilococco aureo eppure lo pseudomonas diventano come più resistenti agli antibiotici lo si vede poi ecco questo pure è un lavoro che lascia abbastanza interdetti tutti quelli che mi vengono a dire no ma i campi elettromagnetici sul biologico influenzano poco ecco proprio stiamo ribaltando stiamo completamente dando un cambio c'è un cambio di paradigma eccolo qua quindi può aumentare la resistenza batterica nello stafilococco aureo e nello pseudomonas ecco adesso io vorrei dire che quello che sto usando pure io in tutto questo sto utilizzando alcuni prodotti della linea self food e ne sto usando due tre anzi diciamo ora oggi sono quattro ma io vi devo far vedere questo sul selenio dove è contenuto il selenio nella formula originale anche in alte ma noi troviamo una formula già originale ma chi l'ha ideato non avrebbe mai immaginato che il selenio potesse migliorare lo stress ossidativo indotto da campi elettromagnetici questo è un lavoro importante perché l'utilizzo del selenio che noi possiamo assumere nel nostro amico self food base che ormai è diventato un compagno di viaggio da non so da quanti anni e che adesso la scienza ci aiuta a riscoprire perché noi ce l'abbiamo in quella formulazione particolarmente biodisponibile a noi ci ricorda ci ricorda questo lavoro l'influenza che ha il selenio per esempio sulla glutatione per ossidasi che però deve essere molto basso deve essere si parla di micro milligrammi perché molte persone pensano al selenio e poi ne prendono una quantità che può diventare un problema tossica allora ricordiamoci che tutto è un equilibrio perché qualunque cosa diceva il padre della medicina è la dose che fa il veleno quindi è chiaro che il selenio le vitamine tutto ha una sua tossicità quello che bisogna scoprire è ovviamente la giusta formulazione nella forma più biodisponibile e il dosaggio e anche la tempistica adesso io non ho più il tempo di dirvi e di darvi per esempio decenni sui biofotoni e su come per esempio mentre si inserisce un prodotto come il self-food in un bicchiere di Pyrex viene diluito e mescolato con le mani e con una concentrazione quindi con un'emanazione biofotonica e biofotoni escono dalle mani potremmo ottenere qualcosa in più ma visto che noi viviamo di fenomeni elettromagnetici visto che i biofotoni sono ampiamente dimostrati non è il momento di creare un tutt'uno di creare un grande mosaico e qui è quello che sto cercando di insegnare in tutti i vari corsi suffragati da vari tasselli che sono queste ricerche scientifiche ufficiali non lo dico mai Alessandro ma visto che ci siamo se è andato nell'argomento mi permetto di dirlo allora durante il disastro della tragedia di Chernobyl e la tragedia di Fukushima sono stati regalati migliaia e migliaia di self food perché è stato visto che è molto utile per combattere i danni da radiazioni e non sono come sapete radiazioni di un certo tipo sono molto molto non si sente non si sente Giorgio pronto non abbiamo sentito niente Giorgio eh non si è sentito no allora aspetta che ve lo dico ora mi sentite mi sentite potresti ripetere sì allora puoi ripetere sì ripeto pronto mi sentite ora sì adesso sì ok allora durante allora visto che è andato sull'argomento mi permetto di accennarvi una cosa il nel durante il disastro di Chernobyl e quello di Fukushima sono state donate centinaia centinaia migliaia di boccette di self food a questa popolazione Giorgio Giorgio non si sente non si sente come non si sente no si sente a tratti dovresti metterti in una zona dove si sente meglio ma ora mi sentite ora si se ti permisi allora durante durante la tragedia di Chernobyl hanno donato migliaia di flaconi di self food a Chernobyl e a Fukushima anche per tutte quelle persone che hanno state danneggiate e i bambini di Chernobyl ancora oggi i bambini che sono cresciuti prendono e molta popolazione prende questo prodotto perché si è visto che grazie alla sua capacità di aumentare idrogeno e ossigeno e questa capacità antiossidante e la ricerca scientifica se ne volete ve ne mando quante ne volete ha dimostrato proprio questa azione a livello di protezione del DNA mitocondriale e quindi la corretta ossigenazione ecco volevo dirvi io chiuderei chiuderei con questo lavoro con questa review parlando del ruolo dei mitocondri nello stress ossidativo indotto sempre da campi elettromagnetici e il focus di questa review è proprio sull'apparato riproduttivo purtroppo i campi elettromagnetici in modo inequivocabile i campi elettromagnetici parlano poi di questi artificiali vanno a ridurre l'efficienza quindi la qualità dello sperma in generale la funzionalità dell'apparato riproduttivo c'è stato anche uno studio dell'istituto Ramazzini insomma ci sono molti lavori quello che visto che il nostro self-food va a lavorare anche sull'ossigenazione anche sui mitocondri io andrei abbiamo visto l'importanza sugli enzimi ai fini della sintesi del glutatione io andrei a tirare delle conclusioni cioè noi abbiamo una serie di stressors che sono campi elettromagnetici multipli e multifrequenziali perché quelli del cellulare sono un range di frequenze poi ci sono quelli dei wifi poi c'è quello della rete della rete a 50 Hz a 230 volt quindi noi siamo assaltati contemporaneamente da vari tipi di campi elettromagnetici e io l'ho detto in apertura lo voglio ridire in chiusura come mai nella storia quindi è chiaro che dovremo difenderci come mai anche nella storia se siamo assaltati come mai nella storia quindi se da una parte vari nutraceutici l'alimentazione tecniche antistresse sia fisiche che mentali sono utilissimi io dirico fondamentali dall'altra poi dobbiamo anche utilizzare dei dispositivi uno può essere per aiutarci a riequilibrare i biochem la nuova vitality card quella che un tempo era la smart card oggi ha diciamo la versione ultimo tipo e va approvata è inutile parlarne in realtà io spero che quanto prima si riescano a fare degli incontri dal vivo che quindi questa fase finisca perché in particolare questa card va dimostrata dal vivo perché a parole le parole lasciano il tempo che trovano il punto di oggi è vogliamo sapere anche a che punto siamo con sostanze tossiche lo stress elettromagnetico HH ecco l'S drive può essere un aiuto per integrare tutta una grande diagnosi personalizzata e bastano solo 3-4 capelli e il risultato arriva molto rapidamente può essere un aiuto normalmente diciamo per il medico il biologo nutrizionista ma può essere un aiuto anche per tutti quelli che vogliono avere un grosso modo un'idea in più della loro situazione e avere delle indicazioni supportate ovviamente anche da altro ma delle indicazioni su come alimentarsi avere un piano alimentare e così via io per adesso mi fermerei qui che abbiamo siamo andati anche fuori vi do appuntamento vi do appuntamento alla prossima che farà fare Giorgio come vedete di argomenti ce ne sono tantissimi potremmo anche fare delle esperienze dal vivo vedere cosa succede dal vivo intendo sempre in videoconferenza dei costi da fare ce ne sono tantissimi argomenti ce ne sono molti e a questo punto io tornerei al video non so come grazie a tutto ringraziamo Alessandro perché io penso che una lezione così dettagliata supportata dettagliata dettagliata si fa per dire per quello che hai fatto ma con tanta ricerca scientifica se ne vede ufficiale ufficiale cioè io non ho visto nei miei anni di esperienza io ho 24 anni che vado a congressi noi quando andiamo facciamo congressi medico scientifici portiamo lavori pubblicati abbiamo pubblicato lavori fino anche con 230 pazienti quando parliamo di self food e quando si parla di campi elettromagnetici avere così un dettaglio almeno le persone capiscono comprendono che non sono pareri o che non c'è complotti c'è scienza conoscenza informazione prevenzione e dobbiamo unire tutti le forze perché insieme possiamo sicuramente rendere più consapevoli io vi ripeto abbiamo la scuola di alta formazione che sta partendo quindi se siete interessati mandate mail iscrivetevi il 15 faremo la lezione sulla lipidomica il 16 allegrini Bartolomeo con le costituzioni e i casi quindi faremo proprio anche casi clinici verranno portati perché poi meglio della clinica cosa c'è quindi esperienza condividete se vi è piaciuto questa esperienza con i vostri colleghi e vi ringrazio veramente di cuore ecco se avete domande mandate un'email epinutra cerchio c'è la gmail punto punto com grazie veramente per chiudere per chiudere volevo far vedere un attimo la copertina dove troviamo vari argomenti del libro che è appena uscito non so se si vede vanno a vedere si 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 vede ah è un libro completamente a colori 460 pagine poi su Amazon trovate anche l'indice la particolarità è che essendo completamente a colori e con una marea di immagini questa è l'immagine che mi ero scordato di farvi vedere trovere troveremo troveremo tutti gli argomenti possibili immaginabili lunga discussione sul microbiota intestinale i nostri vari nutracertici a un costo bassissimo perché ha un costo di 19,9 cioè siamo riusciti ad abbattere i costi nonostante sia non lo vediamo non lo vediamo no? no no che cosa che cosa dobbiamo a stop share ok ok si vede ma quanti siete? eccolo qua eccolo qua questo qui vincere la stanchezza lo stress e la fatica 490 pagine a colori prima vi volevo far vedere un'immagine poi vediamo tutte le varie fasi del sonno del rilassamento poi vi insegno come rilassarvi ci sarà c'è tutta una parte sul microbiota vedete è tutta a colore e poi ci sarà un accenno alle esperienze di cui abbiamo accennato oggi e ovviamente essendo tutto biotipizzato avremo anche come le varie persone reagiscono in modo diverso allo stress ci sarà tutto il discorso mitocondri stressors eccetera quindi ci sarà modo poi per vedere che è tutto che che Grazie.